Salve a tutti signori, bentrovati in questo nuovo video. Prima di tuffarci a capofitto nei meandri del Grande Fratello VIP, vi chiedo una grande cortesia, grossissima cortesia, di lasciare il vostro segno qui sotto come interazione, che aiuta sicuramente la pagina. Detto questo, parliamo di Grande Fratello VIP, parliamo di Orietta Berti, sì, abbiamo un Orietta Berti come in realtà non si era mai vista prima. Sì, c'è stato un attacco frontale verso Pamela Prati e è successo tutto durante una diretta. È stata una fiammata che ha incendiato tutto quanto quello che c'era intorno, lo studio, il programma che è stato travolto dalle critiche dopo il rientro di Ginevra a Lamborghini, che ha fatto infuriare i fan. E poi ci sono stati duri commenti, contro Alfonso Signorini però, tipo, ah, un concorrente squalificato in passato non era neanche ammesso negli studi e ora che cosa fanno? Lo fanno addirittura rientrare. Ma scherziamo. E per cosa? Per il triangolo Lamborghini-Antonino Oriana? Ma la redazione Signorini? Ma l'hanno capito? No, che non c'è storia tra Ginevra e Antonino. Ma perché? Devono cercare inventare una dinamica addirittura da fuori la casa. Mamma mia, che povertà di idee. E Orietta sulla questione non ha detto nulla, ma ha avuto modo di attaccare Pamela Prati, tra l'altro protagonista di un duro confronto con Vilma Goic e Patrizia Rossetti. E proprio nel dettaglio Orietta ha attaccato la showgirl sulla storia Marc Caltagirone, la famosissima storia. Dicendo, lei dice che in Italia ci sono ben tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c'è tutta Italia che non ci crede. Non le crede nessuno, forse solo un quarto crede alla sua storia, ma sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose, lo so bene. Quando una cosa non va più, ne fanno un'altra per farla andare. È un ambiente dove fanno così, dove funziona così. Sono 55 anni che sto in questo ambiente. Quando una cosa non va più, se ne inventano un'altra per farla andare. È così. È esperienza questa. E praticamente non è la primissima volta che Orietta attacca Pamela sulla questione. Lo aveva già fatto avverissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, quella l'aveva fatto in maniera molto più plateale, dicendo Ma guarda Pamela, ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel'ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no, perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Cioè, capisci? Sì. E Pamela Prati, nei suoi confronti, ha avuto così il classico atteggiamento supponente l'ha invitata a chiedere ai magistrati se la sua storia non fosse effettivamente vera. E questo, signori, è tutto. Io mi fermo qui per ora, ma noi ci sentiremo a un prossimo aggiornamento, sempre riguardante Un Grande Fratello o altro del mondo della TV. Vi ringrazio per l'ascolto, non dimenticate il pollicione in su e ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Pausa Caffè.